Essere chiesa, attenta ai segni dei tempi, vuol dire affrontare la realtà com'è, non come vorremmo che fosse. E l'Italia è un paese segnato da un clima di rancore sociale da pacificare con urgenza e la lettura del Cardinal Bassetti. Consiglio permanente CEI al Via Oggi a Roma. Parla il Presidente dei Vescovi italiani sul tema, tra gli altri, elezioni politiche 4 marzo. Ai candidati in lizza Bassetti raccomanda di mettere da parte le vecchie pastoie ideologiche del Novecento, così dice. Poi sobrietà di parole e comportamenti. Non si può comunque scordare quanto rimanga immorale lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere. Altrettanto immorale speculare sulla paura della gente. Paure pur comprensibili magari, però tutti i poveri, forestieri compresi di cui nulla sappiamo, appartengono alla Chiesa per diritto evangelico. Perciò quanto all'immigrazione non deve essere la paura a determinare le nostre risposte, né può tramutarsi in xenofobia. O addirittura evocare discorsi sulla razza che pensavamo fossero sepolti definitivamente. Altro capitolo, gli obiettivi impellenti del creare lavoro, combattere la precarietà, rendere compatibili i tempi di lavoro, affetti, riposo, in sintesi. Lavorare meglio, lavorare tutti. Soprattutto i troppi giovani disoccupati, mortificati o costretti ad una dolorosa e amara emigrazione, sono dati inquietanti i loro, avverte Bassetti, così come le famiglie in stato di povertà assoluta, che dieci anni fa erano la metà di adesso. Ma se si fermano le famiglie... smette di battere il cuore della società. Perciò è doveroso e urgente aiutarle e fa ben sperare la condivisione raccolta dal patto per la natalità del forum degli associazioni familiari tra esponenti di vari partiti. A quelli cattolici in specie Bassetti raccomanda infine gratuità, spirito di servizio e cura senza intermittenza di poveri e difesa della vita. Un bambino nel grembo materno e un clochard, un migrante e una schiava prostituta sono due facce della stessa medaglia. E qui l'ultimo cenno è per la legge sul cosiddetto biotestamento, che preoccupa il presidente Cei quanto a relazione tra paziente e medico, giusta proporzionalità delle cure e salvaguardia dell'obiezione di coscienza. La vita non si uccide, la vita non si compra, non si sfrutta, non si odia.